Ciao a tutti ragazzi io sono Suri e benvenuti in un nuovo video aggiornamento del display degli iscritti e dell'isola degli iscritti Il display è fermo a 4338 ma adesso siamo a 4523 iscritti quindi aggiungiamo altre due centinaia a questo display qua Ok 4500 qua ci va un 2 e qua ci va un 3 quindi facciamo andare con la leva i numeri avanti Ok perché questo qua non cambia ok è cambiato perfetto fermiamo Fermiamo questo fermiamo anche questo 1 2 e 3 e anche qua aumentiamo di altri 2 ok 0 1 ancora 1 4523 iscritti Benvenuti anche a tutti i nuovi iscritti di questa settimana qua e adesso andiamo a nominare nuovi membri dell'isola degli iscritti Che vi ricordo se volete essere aggiunti vi basta compilare il modulo che trovate in descrizione e domenica prossima vi andrò ad aggiungere Ma questo episodio è stato il più difficoltoso da registrare non perché ho dovuto rompere una montagna per prolungare l'isola a parte quello Perché ci siamo scontrati contro la montagna e perché sono morto ben 3 volte e sempre per colpa di creeper E la terza volta l'ultima ho perso anche la spada e l'elmetto perché uno zombie mi ha ucciso e poi un creeper esplode dopo che sono morto Quindi qualcosa si è andato perso purtroppo per un momento ho pensato anche di aver perso l'elitra perché non c'era più Poi ho visto uno scheletro che indossavano l'elitra non sapevo fosse possibile ma quello scheletro lì aveva il mio elitra e l'avevo indossato Uccidendolo me lo sono ripreso quindi bene andiamo alla fine dell'isola vi faccio vedere anche la montagna che ho rotto per poter prolungare quest'isola qua Ed eccoci quasi arrivati ecco qua la montagna e c'è ancora il beacon che ho usato per avere haste e poter fare questo incavo all'interno della montagna Atterriamo in questo punto ok perfetto e guardate qua i lati che ho rotto la montagna da qua si dovrebbe vedere Ecco qua ho rotto tutta questa parte qua e anche tutta questa parte qua c'era la terra e ho messo anche degli screen sul gruppo telegram se volete vederlo Qua ci sono un po' di materiali che ho raccolto altri ne ho buttati c'è anche del ferro perché ero passato alla farm di ferro Un po' per il beacon e un po' per averne una scorta e vabbè ma andiamo a nominare i nuovi membri che partono da questo punto qua Poi devo aggiungere anche il bone meal qua per far crescere l'erba vabbè lo faccio adesso ok fatto e andiamo a nominare appunto i nuovi membri Quindi partiamo da Kevin0000, Alessandro Cantore, poi abbiamo XX Bomber XX, Rodella 2002, Mastis Moore, poi abbiamo Ciaccio04, Gigadani28, Luca88, Valerio, Mostfire, Mark9Tube, poi abbiamo Tince, Musumeci, Elia, abbiamo Cronos03, Fabio01, Hertz, K, TheRealGods, Luci o Luki, poi c'è DinoGio91, Matteo Dai, KavaJack03, Valerbot, EnderStachos, Umbi, abbiamo Stefan11, Michelle Messina, CreeperCrash, FraDoll, TheDark02, IlCoste, LukiExplosion, AssassinKill, GG, CardiGames, TheNicker, AlessioT, LucasTy, EnricoManca, Fabiano, Giuseppe, Robillotta, ok passiamo anche da questa parte adesso E di qua abbiamo Eldani003, GT Mattia, Matt007, Marco Ciao, It's Matthew, AlGomi03, anzi AleGomi03, Mattia, XXArminXX, XReal, Alessandro, Davix07, MonsterR, RockyDangerYouTube, Gemmino, PavaDado, BredsfireGaming89, Luda, TheKing, Tommy05, Testion, Prizio, DarkAngel00, TommyGross, Luca000D, FedeCloudMindBlock che è uno dei founder insieme a Laura Sheffer del MindBlock dove è hostato anche la Multicraft O ci sono anche altre modalità in questo server qua, se vi interessa trovate l'IP in descrizione del TS anche Poi abbiamo TimePlex, Andri27, RobZ, Tia2810, MattiasXX, TernBXX, ok Fergui, tra parentesi Nicola, TheFastGamer04, OmarBoom, GSOnTheWeb, MatteoRiva, poi abbiamo AngelTheGamer, JoeNGG, MartinaMissarelli, ok Ecco tutti i nuovi membri dell'isola, benvenuti a tutti e grazie per essere iscritti al mio canale E anche la montagna per poter espandere l'isola è stata abbattuta in questo episodio Ci è costata una spada e anche un elmetto che ho perso ma lo rifaremo presto E quindi come sempre lasciate un bel mi piace, se vi è piaciuto questo video compilate il modulo in descrizione se volete essere raggiunti nell'isola degli iscritti Io come sempre sono Suri, ciao a tutti